No, 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 no. Ma come no? Scusate l'interruzione, no, no. Signori? Maurizio Casagrande è il nostro ospite di questa sera! Ti devo interrompere, no scusami, lo devo interrompere. Ma no, scusami, io faccio sempre qualcosa. C'è bene che puoi fare il contributo dei concerti. Si vuole fare il Bob Marley Non voglio fare nessun Bob Marley Io parlavo del selfie Il selfie? Sì, un selfie Io prima dei concerti faccio il selfie Perché ti ho sempre visto senza selfie No, no, guarda Mi sono confuso Sono un presentatore adesso Facciamo una cosa giovanile Facciamo una cosa giovanile Possiamo fare un selfie Ce l'hai un telefono? Io sono un attore professionista Porti il telefono dietro Che l'attore professionista Non ti ha un telefono Lo tiene ma spento in camerino Giustamente E allora Tu c'hai il telefonino? E dove lo prendiamo un telefono? Possiamo cercarlo Grazie Prego Aspetta Aspetta Mi hanno invenuto un po' Come si fa? Siamo tornati indietro A tutoro tu trovo A tutoro tu trovo Grazie Era Era Tutoro tu trovo Era meglio non trovarlo Ma comunque va bene così Facciamoci questo selfie Lo facciamo insieme Tutti e tre insieme Su le mani Scusate Facciamo un selfie Mi piace Mi piace questa cosa del selfie Un po' più qua Un po' più là Un po' più là Più indietro dici? Un po' più là Più là Più là Ecco qua Aspetta Maurizio Lì Un po' più là Ma quando più là Maurizio Salti due passi Leggermente No tu poco poco Perfetto vai Eccolo là Com'è venuto? Guarda Ma non ci so Guarda Fammi vedere Non ci so Non ci stai nel selfie Appunto Selfie perfetto Maurizio Io me ne vado Ci vediamo dopo Torna però Abbiamo cominciato Da te non me l'aspettavo Non è colpa mia Non è colpa mia Che vuoi darmi? Che fai? Vai viva Torna